Il Movimento 5 Stelle sta facendo un pericoloso allarmismo. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista taglia corto sulla vicenda legata alla sicurezza dell'edificio scolastico di Via Crispi, vicenda sollevata da consigliere Simone Cretella che ha presentato una interrogazione che sarà discussa domani nel corso del Consiglio Comunale. In sostanza l'esponente dei 5 Stelle chiede di conoscere il parere tecnico sullo stato dell'edificio che ospita la scuola primaria Nicola Scarano per il quale è stato già sodato che non esiste il certificato di agibilità. La struttura risale agli anni 70, ammesso il sindaco e la legge attuale non prevede un aggiornamento dell'agibilità. Pur non sottovalutando il tema, credo che quello dell'agibilità sia un falso problema, ha detto, perché non riguarda direttamente la vulnerabilità sismica. Secondo i pareri forniti dai tecnici, la scuola di Via Crispi ha lo stesso grado di resistenza ad un sisma uguale a quello degli altri edifici scolastici della città. Sarà anche così, ma questo di certo non tranquillizza i genitori delle centinaia di alunni di quella scuola. Ma il sindaco Battisti è andato anche oltre, ribadendo che l'edificio sarà presto abbattuto e ricostruito grazie a 2 milioni e 700 mila euro messi a disposizione dall'Inail nell'ambito di un progetto nazionale che riguarda tutte le scuole d'Italia. Stiamo aspettando la conferma dello stanziamento aggiunto, dopodiché partiremo con la progettazione e l'abbattimento della struttura, i cui costi saranno a carico del comune. Ma nel frattempo, in attesa che i lavori vengano realizzati e portati a termine, resta l'incognita sul presente. C'è chi chiede che gli alunni vengano trasferiti in locali sicuri e idonei e il sindaco ha risposto così. Se i tecnici diranno che l'incolumità dei bambini e del personale scolastico è a rischio, non esiterò a chiudere quella scuola, ma fino ad allora invito tutti al buon senso e alla responsabilità. Intanto oggi è assemblato ai genitori degli alunni della scuola in Nicola Scarano nel piazzale antistante l'edificio.